Alla Dawa High School Andrea Conigliaro della Conigliaro Security System di Genova. Tra le materie principali in questo corso la TVCC. Che cosa avete approfondito? Abbiamo approfondito la programmazione dei DVR con i software, un corso base per iniziare e poi la messa in rete delle telecamere IP per quanto riguarda sempre la programmazione. La cosa che è andata bene è anche il discorso che abbiamo affrontato per la videocitofonia che è stato veramente interessante, un prodotto molto valido che speriamo prende campo. Che cosa apprezza di questo prodotto in particolare? Apprezza innanzitutto il funzionamento, la programmazione e poi c'è anche un discorso di design, dei prodotti molto eleganti, molto semplici, programmazione semplicissima, speriamo che si vende. Certamente. Lei dice semplice, semplice quindi per l'installatore e anche per l'utente finale? È semplice sia dalla parte dell'azienda che installa ed è semplice anche il discorso di come il cliente finale userà questi prodotti qua, che sono comunque molto professionali e come ti ripeto facili da usare.